Anche dal seduto sei piccolo Ok ragazzi Siamo Siamo in biblioteca Non so se siete quindi Scriverò sotto Quello che farò Faremo cinque cose Cinque Da Non Fare in Biblioteca Buona visione Ragazzi siamo andati a provare il numero uno Sarà Non E non Salire sui scappali Buona visione Non lo fate mai Vai 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 Sì Sì Rompendo Stai ripetendo Sì Ok No Ok Ok ragazzi, seconda prova da non fare in biblioteca, non salite mai sui tavoli, ci salgo mai, mettiti a ballare Terzo, se siete in una biblioteca, non entra anche mai in un bagno dell'etica, in un bagno dell'etica, no mai Ok, guarda, non vale Ragazzi, quarta cosa da non fare in biblioteca, sarà di non urlare Urla Veno nero Vabbè ragazzi, sarà di non fatto Quinta cosa, quinta, saltare un po', dove sei? Quinta cosa da non fare Tanti sei tutto in gruppo Senti, se un computer non funziona No, fate a cambio, vabbè, buona visione Fondando Vabbè, sì Se volete è una bella visione ultimissima cosa mai scivolare su un tavolo ti fai male ti fai male ti fai male non stava a salire ora di merda ci sono due ragazze con la shower non stava a salire non stava a salire non stava a salire non stava a salire